Si interrompe sul più bello la rimonta del volle soverato nella terza giornata di serie A2 femminile. Le calabresi cedono al quinto set alla Bengero Vigo. 2-7 sotto tono per le ragazze di coach chiappa freddo. Le catanzaresi pagano a caro prezzo i troppi errori nella prima parte del match, soprattutto a servizio molto meglio nel terzo e quarto parziale, quando il soverato è riuscito a togliere la testa fuori dal guscio dominando i due set. Peccato per l'ultimo e decisivo parziale dove è mancata un po' di fortuna. Ne servirà parecchia domenica prossima quando sempre al Palace Coppa sbarcherà la fuoriserie Monza con la quale è soverato a un conto in sospeso legato ai play-off della scorsa stagione.